Flashdance Flashdance, il film cult anni 80, va in scena teatro Nel 1983 fu uno dei film che ha incassato di più, circa 200 milioni di dollari, oggi Flashdance torna in un'inedita versione teatrale, in scena al Teatro Nazionale di Milano dal 5 ottobre al 31 dicembre 2018. La sfida dichiarano schese Il film, diretto da Adrian Line e scritto da Tom Hedley e Joey Steratz, è stato riscritto e adattato al copione teatrale da Chiaron Schese, regista dello spettacolo, che spiega, questa è la prima volta che dirigo un testo estero e mi ritengo fortunata perché l'adattamento da cui sono partita, che è andato in scena in Inghilterra a luglio, è più vicino al film. Per me, una grande sfida, un copione inedito, con canzoni nuove e nuovi personaggi. Nello ruolo della protagonista, che nel film è interpretato da Jennifer Bales, troviamo Valeria Belleudi, cresciuta nella scuola di amici ma già interprete di musical importanti come Sister Act e Priscilla la regina del deserto. Sulla possibilità offertale dalla regista, Valeria dice, sono cresciuta guardando Lorela Cuccarini e il film Flashdance lo ho visto per la prima volta quando avevo 10-11 anni e avevo già deciso cosa volevo fare da grande. Flashdance Il suo sogno è quello di entrare all'Accademia di Danza di Pittsburgh e si allena quotidianamente per raggiungere il suo obiettivo. Naturalmente, il tutto condito con una bella storia d'amore tra Alex e Nick Urley, il suo capo in fabbrica. Il film ebbe un successo strepitoso, soprattutto grazie alla colonna sonora, il brano Flashdance e Bata a Feeling, scritto da Giorgio Moroder e Kate Forseye e interpretato da Irene Cara, vinse l'Oscar come miglior canzone. Flashdance Flashdance ha avuto un successo enorme al botteghino, arrivando a incassare 201 milioni di dollari in tutto il mondo. Flashdance Vedremo se l'adattamento teatrale avrà lo stesso successo, accanto alla protagonista Valeria Belleudi che, a differenza della Beals, danzerà senza controfigure meno nel ruolo di Nick Urley, che nel film era interpretato da Mikhail Nouri, troviamo Lorenzo Tognocchi. . Già nel 2010 era stato proposto un adattamento italiano del musical, diretto da Federico Bellone con supervisione di Glenn Casale. La versione di Chiara Noschese si avvicina molto di più al film e mette in risalto il carattere e lo spessore dei personaggi. Le canzoni sono state tradotte solo nei casi in cui danno una spiegazione ai fatti che accadono in scena, altrimenti sono state lasciate in lingua originale. Appuntamento da stasera fino al 31 dicembre al Teatro Nazionale di Milano. . .